Il suo corpo senza vita era incastrato tra gli scogli dell'isola di Capraia, non molto lontano dal punto in cui ieri pomeriggio si era immerso con la sua tuta da sub. Individuato dall'elicottero della guardia costiera, Gianluca De Luca, 54 anni di termoli, è stato cercato fino a notte fonda, poi di nuovo dall'alba. Uomini e mezzi della capitaneria di Porto, in collaborazione con i sommozzatori dei vigili del fuoco e con la guardia di finanza, hanno scandaliato la zona. C'erano anche i sub di Tremiti, l'elicottero ha sorvolato tutta l'aria fino a scorgere la sagoma, fino al tragico ritrovamento. Gianluca De Luca amava il mare, sub esperto, ieri si era già calato in acqua una volta, ma dalla seconda immersione non è risalito. Chi con lui aveva raggiunto in gommone quel punto si è preoccupato e ha allertato i soccorsi. Un malore potrebbe essere stato fatale, sarà la procura di Foggia, competente per territorio, ad occuparsi del caso. Termoli sotto shock, la notizia già inserata si era sparsa rapidamente, nessuno voleva crederci. Tutti fino all'ultimo si sono affidati alla speranza, sui social messaggi di dolore, di sconforto. C'è chi ricorda la sua passione per il mare, chi il suo garbo e la sua cordialità. Un cordoglio unanime, un destino assurdo.